Obiettivo Pagio Prata Questo perché si mangia spesso ma in piccole quantità. Ricordiamoci che per raggiungere il nostro obiettivo, ovvero la bacia piatta, dolciumi, fritti, pasti preconfezionati, bevande casvate, zuccherate e cocci non aiutano. L'importante è che bisogna scegliere posti sani invece di esplicitare anche la stagionalità della frutta e della verdura. Ricordiamoci di avere un litro e mezzo per due litri di acqua al giorno. Questo perché ci aiuta a idratare e a chiedere anche una bella sana e luminosa. Adesso sa voi mettere in pratica queste tre regole d'oro e noi ci vediamo con il suo obiettivo. Un bacione! Grazie a tutti!